per i duecento stile libero assoluti femmine serie numero due Laura Franchina la uno Jennifer Parolin corsia numero due Giulia Fraccaro corsia tre Caterina Bisiacchi alla quattro Alessia Polier in cinque Roberta Antonioni alla sei Giorgia Lugnoli alla sette Federica Pozzobon corsia numero otto prima serie quindi ragazze di questi duecento stile libero Anna Porcari ventinove diciotto il suo passaggio medaglie ai criteri ha vinte nelle due prove del dorso aperte alla categoria ragazzi quindi cento e duecento metri è stata terza allo stadio del nuoto di Riccione in entrambe le occasioni quindi specialista del dorso ma anche ottima stile liberista atleta del team Veneto in corsia quattro che ieri ha vinto con una bella prestazione la prova della doppia distanza dei quattrocento metri quindi Porcari alla quattro uno uno e ventidue o meglio Irene Marine uno uno e ventidue che si è messa davanti ad Anna Porcari per otto centesimi soltanto uno uno e trenta sono entrambe atlete del duemila e sei quindi secondo ultimo anno della categoria ragazze anche della Marina abbiamo detto ieri campionessa giovanile degli ottocento nonché medaglia di bronzo proprio in questa gara nella seconda giornata dei criteri a 150 metri Porcari rimette la freccia e passa a 32 13 Marina 32 96 Giorgia Tonazzo 33 e 53 invariate le prime tre posizioni anche ai centosettantacinque metri quindi scappa via Anna Porcari e si prende l'ennesima vittoria qui al meeting di Halloween timbra i due stile 2 4 e 97 il suo tempo Irene Marine per la seconda posizione 2 6 e 87 Giorgia Tonazzo 2 9 e 65 terza